La crisi non frena l'ascesa del turismo nel mondo e il nostro paese è in grado di intercettare una parte consistente di questo trend positivo. Per accogliere turisti e fare in modo che abbiano il desiderio di tornare servono conoscenze, abilità, competenze specifiche. L'Università del Molise offre il corso di laurea in Scienze Turistiche da oltre dieci anni, nella sua sede di Termoli, lungo la costa adriatica. Vi è la possibilità anche di proseguire con la laurea magistrale in Turismo e Beni Culturali, sempre nella stessa sede. Entrambi i corsi di laurea hanno ricevuto la prestigiosa certificazione TEDQual dall'UNVTO, l'Organizzazione Mondiale del Turismo. Se pensi di essere interessato, se vuoi conoscere la reale spendibilità del titolo di studio o anche per semplici curiosità puoi consultare il nostro sito dell'Università del Molise o contattarci tramite Facebook o anche personalmente nella nostra sede di Termoli. Ti aspettiamo a Termoli per costruire insieme il futuro tuo e del nostro paese.